Il fumettista Lele Vianello, per anni collaboratore di Ugo Pratte e autore delle storie di Corto Maltese, ha ottenuto i Romics d'Oro della sedicesima edizione del Festival Internazionale del Fumetto e dell'Animazione, in scena a Roma fino al 5 ottobre. In mostra, 40 opere originali per ripercorrere la sua carriera artistica dal 1980 ad oggi, come spiega lo stesso disegnatore. Dobbiamo tutti ricordarci che è una delle espressioni più importanti di comunicazione il fumetto. Con il fumetto puoi raccontare la cronaca, la fantasia, l'avventura e il sogno. Allora, noi che apparteniamo a questo mondo, direi magico, in queste manifestazioni abbiamo la possibilità di esprimerci, di essere considerati e trasmettere anche questo messaggio, ai giovani soprattutto. L'edizione di quest'anno di Romics si sviluppa su due direttive, da una parte fumetti classici e nuovi, dall'altra il mondo dei giochi di ruolo e dell'animazione.